Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale Come state? Spero bene Io sono Caterina e come sempre sono qui con una nuova collaborazione Oggi vi parlo di un prodotto veramente innovativo che a me è lasciato senza parole era anche un po' titubante di accettare questa collaborazione anche perché veramente io ho sofferto appunto di acne, di brufoli quindi il tema che andremo a trattare oggi è proprio i brufoli e quindi veramente non mi erano mai guariti così velocemente in realtà con questo prodottino qui di questo brand Sarge Rillari, non so bene come si pronuncia comunque è su Gellari, è scritto quindi questo qui che trovate su Amazon poi io nell'info box vi lascio il codice Amazon e il link per poterlo acquistare qualora vi interessa il prodotto e questo è appunto il pacchettino che vi arriva il pack è essenziale veramente e appunto sono dei pezzi da mettere nei brufoli ora vi faccio vedere cosa ho trovato all'interno del pacchetto allora andiamo ad aprirlo insieme ho trovato 252 cerottini che vi dico che il prezzo è veramente ottimo perché parliamo di 12,99 euro con 12,99 euro voi potete far sparire 252 brufoli quindi siete veramente a posto per un bel po' e la cosa bella è che sono divisi quindi giorno e notte questa è una cosa bellissima perché ci sono quelli day e quelli night e la cosa bella è che cambiano quelli day, quelli da giorno e quelli da notte perché appunto quelli da notte sono un pochino più spessi mentre quelli da giorno meno spessi ma la cosa bella è che dopo che voi li applicate non si vedono quelli da giorno voi li applicate e li tenete 6-7 ore come volete voi uscite, fate sembra proprio che voi non avete questo cerottino infatti si uniforma molto bene con il viso quindi questa è stata la cosa che mi ha scioccato di più perché veramente sembra è come non averli quelli da notte sono un pochino spessi io li ho provati per dormire li ha provati anche il mio fidanzato e lo ha provato veramente tanto infatti siamo innessi tutti e due sbalorditi dall'efficacia di questo prodotto e anche da notte li tieni su tutta la notte e la mattina ti alzi lo stacchi e il brufolo non c'è più non so che sembra assurdo ma è vero questi li consiglio soprattutto quando si ha un evento importante e magari è uscito il brufolo all'ultimo minuto attaccate questo in un paio di ore veramente il brufolo sparisce tra l'altro c'è proprio scritto 24 ore di protezione io l'ho veramente usato in questi giorni sia il day che il night e li ho trovati veramente efficaci con il day puoi uscire lo puoi anche truccare quindi nasconderlo ulteriormente ma vi ripeto non c'è bisogno perché anche il day sembra quasi non averlo perché appunto si omogena bene con il viso quindi veramente non me l'aspettavo un prodotto veramente top quindi ricapitoliamo cosa troviamo nel pacchetto questi 252 cerottini da attaccare poi troviamo una pinzetta questo vi serve quando andate a prendere il cerottino per attaccarlo quindi non fatelo mai con le mani ma ovviamente sempre con la pinzetta e voi lo prendete con la pinzetta in modo tale che anche il contenuto che c'è all'interno dei cerottini non vada perso e poi arriva con questo che è un fungidrufoli e poi con con le spiegazioni vedete sempre vi riporta il nome del brand e questo è il libretto illustrativo con tutte le spiegazioni allora come funziona? vi spiego un po' come funziona così magari vi può essere anche più utile allora voi praticamente prima di tutto la prima cosa da usare è il pungi brufoli quindi voi prendete i pungi brufoli pungete molto delicatamente il brufolo e poi andate ad applicare i cerottini che sono questi qua i cerottini ve li faccio vedere sono coperti da un'altra da un'altra linguina in modo tale che poi non si tocchi e il prodotto rimane perfetto e se guardate sono così spero che in telecamera renda però sono veramente finissimi è tipo dei tappini da mettere sotto le sedi mi ricorda molto questo però sono così voi lo prendete lo applicate e lo tenete per quante ore li tenete giusto ovviamente più ore li tenete più ovviamente il risultato è più auspicabile vi consiglio di inserire da quelli da night così vi rendete conto veramente dell'efficacia del prodotto e poi magari vedete come vi trovate quelli da notte quindi questa era la mia considerazione in conclusione è ottima veramente cioè pensare che esiste veramente un prodotto così mi ha stupito tra l'altro per 12 euro hanno anche le pinzette i pungi brufoli veramente è stata una bella collaborazione uno perché è un prodotto che non conoscevo e quindi mi è piaciuta molto veramente tanto è un prodotto che consiglio assolutamente a tutte quelle persone che soffrono di brufoli e finalmente se ne vogliono liberare anche per darsi un pochino più di sicurezza è un prodotto sia maschile che femminile come vi ho detto l'ho usato pure il mio fidanzato e si è trovato veramente bene e non è un prodotto impegnativo in tre semplici passaggi voi veramente ve lo mettete su manco ve ne accorgete che appunto avete questo ceruttino perché ve l'ho detto si omogenea con la pelle veramente benissimo quindi vi consiglio veramente questo prodotto io nell'info box vi lascio tutti i riferimenti all'acquisto di questi ceruttini e noi ci vediamo in un prossimo video e speriamo con una nuova collaborazione ciao